Dove potresti andare per sfuggire a rischi naturali, criminalità, malattie ed estendere la tua vita? Oggi andremo a scoprire i luoghi sulla Terra dove le persone vivono di più e dove è statisticamente meno probabile sperimentare problemi. Non perderti la rivelazione finale. Iniziamo dai luoghi dove le persone vivono mediamente di più ed hanno un'aspettativa di vita straordinariamente alta. Monaco spicca in questa categoria con un'aspettativa media di vita di 89 anni e mezzo e per le donne si sale ad una media di 93 anni e mezzo, la più alta al mondo. Passiamo ora alla sicurezza personale. Se la tua principale preoccupazione è la criminalità, ti interesserà sapere che Andorra, Monaco, Liechtenstein e San Marino per diversi anni non hanno registrato neanche un omicidio. Anche il Giappone, nonostante sia una nazione vasta e popolosa, a uno dei tassi di omicidi più bassi al mondo ed il più basso se si considerano solo paesi di grandi dimensioni. Consideriamo ora i disastri naturali. In paesi come il Qatar, il rischio di essere vittima di un disastro naturale è quasi nullo. Anche Arabia Saudita, Bahrain e Emirati Arabi Uniti registrano livelli di calamità naturali pressoché nulli. Concentriamoci ora sulla salute mentale. Le isole caraibiche, con San Vincent e le grenadine in testa, hanno alcuni dei tassi di suicidio più bassi al mondo. E per quanto riguarda le malattie non trasmissibili, Islanda, Svizzera e Giappone offrono le migliori probabilità di evitare morti per cause non infettive. Prima di vedere il paese più volte premiato per alti livelli di pace, dopo di questo guarda il nostro video sugli 11 paesi in cui trasferirsi quest'anno, che comparirà gli ultimi secondi prima della fine di questo video. Concludiamo con il Global Peace Index, che ha nominato in più occasioni l'Islanda come il paese più pacifico.